salve a tutti in questo video parliamo di entropia il secondo principio della termodinamica vedremo che può essere espresso mediante la funzione di stato entropia si indica con la lettera s è una grandezza la cui variazione è data dal rapporto tra il calore q trasferito in modo reversibile e la temperatura assoluta t in kelvin ovviamente alla quale si è verificato il trasferimento unità di misura pertanto è joule fratto kelvin notiamo che se il calore viene fornito al sistema per convenzione lo assumiamo positivo l'entropia del sistema aumenta se il calore viene sottratto al sistema quindi a segno negativo la sua entropia diminuisce come ho detto l'entropia è una funzione di stato dipende cioè dallo stato iniziale finale del sistema e non dalla trasformazione viene effettuata per passare dallo stato iniziale allo stato finale facciamo subito un esempio numerico calcoliamo la variazione di entropia che si verifica quando un pezzo di ghiaccio di 0,125 kg fonde a 0 gradi celsius supponi che la fusione del ghiaccio avvenga reversibilmente e qui è fornito il calore latente di fusione dell'acqua ricordiamo che la quantità di calore per far avvenire la fusione è data dalla massa del blocco di ghiaccio per il suo calore latente il risultato è 4,19 per 10 alla quarta joule qual è la variazione di entropia questa quantità di calore diviso la temperatura a cui avviene il processo che è 273 kelvin il risultato è 153 joule fratto kelvin ora supponiamo di sottrarre calore all'acqua che si è appena formata nella fusione causando una diminuzione di entropia di 112 joule fratto kelvin quanto ghiaccio si forma in questa trasformazione naturalmente formula inversa q uguale t per delta s questa volta c'è una diminuzione di entropia quindi dobbiamo utilizzare per l'entropia il segno negativo il risultato è 3,06 per 10 alla quarta joule è un calore negativo perché viene sottratto al sistema la massa quindi è calore fratto calore latente 0,0913 kg una curiosità se io avessi lasciato il segno meno nel calcolo della massa qui per il calore avrei ottenuto una massa negativa ma questo vuol solo dire che una certa massa viene sottratta all'acqua per diventare ghiaccio e ora vediamo il concetto di entropia dell'universo parlando di macchine termiche reversibili e irreversibili ed entropia iniziamo considerando una macchina termica reversibile abbiamo il solito schema della macchina termica la sorgente calda e la sorgente fredda in una macchina termica reversibile il calore q assorbito lascia la sorgente calda che si trova a questa temperatura tc perciò l'entropia delta s di questa sorgente calda diminuisce di una quantità pari a q assorbito fratto tc e dal momento che diminuisce ci mettiamo qui un bel meno perché questa sorgente calda sta cedendo calore la sorgente fredda riceve calore riceve questa quantità di calore q ced pertanto la sua entropia aumenta di questa quantità di calore diviso la temperatura della sorgente fredda qual è la variazione totale di entropia dell'universo cioè di ciò che sta al di fuori del sistema beh sarà la somma di delta s c più delta s f quindi sostituendo otteniamo questo abbiamo un'informazione in più la macchina è reversibile in una macchina reversibile abbiamo che questa quantità è uguale a questa quantità perciò se le due quantità sono uguali qui abbiamo come risultato zero in definitiva cosa possiamo concludere che con una macchina reversibile l'entropia dell'universo non varia e ora consideriamo una macchina termica reale e sappiamo che le macchine reali lavorano in modalità diciamo così irreversibile in una macchina termica reale il rendimento abbiamo visto è minore di quello di una macchina reversibile perciò una minore quantità di calore viene trasformato in lavoro pertanto una maggiore quantità di calore viene ceduta alla sorgente fredda perciò dato un certo valore di calore assorbito otteniamo questa disuguaglianza questo rapporto q assorbito su temperatura della sorgente calda è minore di calore ceduto alla sorgente fredda fratto la temperatura della sorgente fredda abbiamo quindi che in una macchina irreversibile la variazione totale di entropia non è più nulla bensì è positiva in definitiva qualsiasi trasformazione irreversibile produce sempre un aumento di entropia possiamo concludere che l'entropia dell'universo è in continuo aumento visto che tutte le trasformazioni reali sono irreversibili nel video dedicato al secondo principio della termodinamica qui su in alto a destra trovi il link abbiamo visto che un enunciato afferma che il calore passa spontaneamente da un corpo caldo a uno più freddo durante questo passaggio l'entropia dell'universo aumenta quindi la direzione nella quale si muove il calore segue proprio il principio generale di aumento di entropia dell'universo perciò possiamo arrivare a enunciare il secondo principio della termodinamica in questo modo l'evoluzione spontanea di un sistema isolato porta il sistema a uno stato di equilibrio a cui corrisponde il massimo aumento dell'entropia io vi invito a iscrivervi al canale ad attivare le notifiche così saprete quando usciranno i nuovi video per il momento mi fermo qui non perdete il prossimo video dedicato ancora all'entropia spero che questo intanto vi sia stato utile lasciate un like condividete l'esistenza del canale e alla prossima ciao